L'ultimo brano, che è un pezzo tipico adesso della tradizione americana, è moderno ma è diventato un must. Superstation. Il collaboratore principale del nostro direttore artistico è Tony Romano. Ringraziamo tutta l'amministrazione comunale e la persona di Francesco D'Edeo e l'amministrazione tutta che hanno fatto sì che noi stasera fossimo qui. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.